dv 1989 graduates salve nerevoli di eccoci qui un nuovissimo episodio siamo su against the storm e come sempre io sono Arrax di Cormaris e nello scorso episodio ci erano lasciati con l'arrivo a GarOgn Ladrak che cazzo di nome fatevelo dire E eravamo sempre molto più vicini alle porte del sigillo E ora più che mai direi che dobbiamo un attimo riuscire a sistemarci nel migliore dei modi Perché la prossima partita, il prossimo episodio sarà al sigillo d'argento Che si prega gli dei, riusciamo a farcela perché è abbastanza difficile che troviamo una partita migliore di questa Quindi senza perderci in chiacchiere andiamo diretmente dalla nostra zietta che ci dice già di ritorno Bene, e abbiamo di nuovo la sezione delle storie Quindi mi racconti una storia Lo sai che le volte sono spesso definite il popolo degli occhi di piaga? Perché sono infette giusto? No, più che altro no, non lo sapevo Si dice che abbiano la stessa malattia delle arpie ma devono averla presa molti anni prima perché le ha cambiate Sembra che abbiano sviluppato una connessione unica con la piega marcia, una sorta di simbiosi Ecco perché sono chiamati così E questo è il motivo per cui alcuni temo il popolo degli occhi di piaga E racconti su come sono sopravvissute nelle terre selvagge anche durante la piega tempesta Non sono d'aiuto Ma la verità è che sono dalla nostra parte La loro conoscenza impareggiabile delle foreste e della pioggia ci è d'aiuto nella lotta contro i sigillanti C'è altro che vuoi sapere? No Sinceramente perché comunque nello scorso episodio abbiamo sviluppato Abbiamo sbloccato per la prima volta le volpi E ora più che mai direi che possiamo dirigerci verso gli acquitrini Così pensavo di mettermi nella foresta dei coralli Ma in realtà preferisco gli acquitrini perché almeno vediamo com'è la difficoltà veterano Perché il sigillo è a difficoltà veterano Già le foreste sigillate sono molto difficili Se noi ci andiamo senza conoscere com'è la difficoltà veterano Per me sarebbe un casino veramente Quindi prepariamoci un minimo strategicamente Perché comunque abbiamo ancora, se avete visto sotto la barba La barba, sì Sotto la barra abbiamo ancora tantissimo tempo a disposizione E speriamo che ciò funzioni Ci prendiamo arpie, almeno un umano che lo mettiamo al focolare E dando un nome di insediamento Non posso che prendere il nome di Stefano Che nello scorso episodio ci ha spiegato che cos'era la saga letteraria Da cui viene il nome del precedente insediamento Non ve l'ha stato tutto a spiegare Io l'ho trovata interessante Se l'ha trovata interessante dategli un'occhiata E ti ringrazio soprattutto per tutti i complimenti dello scorso episodio Effettivamente lo scorso avamposto ne sono dignitosamente altamente fiero Speriamo di riuscire a fare una cosa simile qui negli acquitrini E Destino Vuole che mi ha consigliato il prossimo nome Che sarà Scusatemi signori piccole interruzioni Comunque ad ogni modo dicevo il nome Sarà Nissa Ok che appunto ha descritto che nella saga letteraria E' una zona paludosa piena di uomini serpente Qui non abbiamo gli uomini serpente Però la zona Diciamo che bene o male è paludosa Abbiamo ancora un punto da poter spendere E me lo dai in verdure fondamentalmente Ah no Ok in uova Ok Va bene Oppure anzi Me lo fa in radici Che le radici non le raccolgo quasi mai Potrebbero essere Casomai utili Quindi Partiamo tranquillamente per l'avventura Prima volta da veterano Scusate se il discorso viene un po' sconnesso Da quello che stavo dicendo all'inizio Ma perché Ma perché poi Perché dall'ultima Cioè ho iniziato il video Ho avuto dei problemi Ora lo sto riprendendo Ed è passato Un bel po' di tempo oggettivamente Quindi nel mentre Abbiamo fatto bene a prendere le radici Perché qui siamo pieni di uova Abbiamo le lucer Dio santo Lucerto Le arpie Cioè Una combinazione peggiore Proprio non potevi Darmela Ti ringrazio Almeno cazzo mi davi le volpi Che le volpi non le ho ancora viste Ok Qui Perfetto Roba per raccoglitore di uova Assolutamente Qui vedo che la maggior parte Delle sezioni Di piccole radure Diciamo così Si trova Fondamentalmente Nella parte sottostante Quindi Organizziamoci come si deve E vediamo Di ottenere Un più che ampio Bonus Andando ad aprirci La via In queste impervie zone Qui prendiamo qua Qui lo prendiamo qua Ok E qua Perfetto Possiamo dare Già il 3 Il resto Non abbiamo Abbiamo solo uova Niente Pietra Argilla Nulla di nulla Dovevo vedere A che livello Era il coso Fatemi vedere Prima di prendere I bonus Esploriamo un attimo Le zone intorno Perché se qui troviamo Già una zona verde Benvenga Prendiamola subito Al contrario Se non abbiamo Un'altra zona Pertile Vediamo di cambiare In qualche maniera Ogni 20 alberi Avertutto la determinazione Globale Aumenta di 3 Assolutamente Sì Ne abbiamo Un'assoluta Necessità Ok Qui metti Tutte loro Qui Stessa cosa Metti Un umano Perché qui Mi servono In realtà Due Lucertore Almeno Quei pochi bonus Che possiamo Prendere Ce li teniamo Abbiamo già I nostri Primi incarichi Tre radure Si può fare Molto semplicemente Due venti Altrettanto Semplicemente E consegna 35 acqua Della tempesta Si può Altrettanto Fare Ok Iniziate Con la mitica E fantastica Raccolta Qui aspettiamo Prima di Ritrovarci In situazioni Decisamente Ed Assolutamente Sgradevoli E per ora Si va In assoluta Attesa Qui cos'è Ah la piega Marcia Tassa Il tasso Di corruzione Beh Chiaramente Non è Per nulla Corrotto Qui Mi piazzi Lui Oh Ma una bella Volpe Alun Scrutanime La piega Si è presa La mia vista Ma il mio viaggio Non è affatto Terminato Dai un'occhiata A cosa ho raccolto Nel corso Degli anni E in realtà Ho raccolto Anche cose Interessanti Con la differenza Che Fragmaticamente Mi viene abbastanza Difficile Raccoglierle Ora come ora Tutto questo Sarebbe stato Molto utile Ma pur volendo Cioè pure Se ti vedono Tutti e quattro Arriviamo a dieci La metà Di quello Che ci serve Per acquistarlo E mi dispiace Però se me lo piazzi All'inizio Un mercante Col cazzo Che riesca a prenderlo Tra l'altro possiamo Vederlo Da vicino Vederla Più concretamente Pardon Ok Una radura L'abbiamo esplorata Ehm A questo punto Ti piazzi qui E mi fai questa zona Ok E mi pare Che qui Non troveremo Un cazzo Di radure Fertili Ma proprio Nemmeno a pagarle Le troveremo Veramente E questo sarà Un po' Un casino Enorme Anche perché Fino a quando Non arriva il prossimo Carico Di sopravvissuti Col cazzo Che riusciamo A Pur volendo Esplorare Allungare Aumentare La zona Dove poter Costruire case E direi che seguiamo Un po' Lo schema Dell'altra volta Quindi Umani Arpie Lucertole E qui ci piazziamo Qualche bella casa Perché no Uno Due Tre E quattro Perfetto Oh Che 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 Mi dicevano Eh Comunque stiamo Trovando proprio Un cazzo Letteralmente Un cazzo Pur volendo Stiamo trovando Assolutamente nulla Di utile In questa zona Anzi a questo punto Visto che quelli Stanno bucando Già da quella parte Ci conviene Che noi ci spostiamo Qui E Apriamo Questa zona Tanto gli obiettivi Ora come ora Non conviene Prenderli Perché Pur prendendoli Tra l'altro Guardate quanti cazzo Di punti abbiamo Cioè Ne sono molti di più Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Obiettivi Porco Giuda Eh Porco Giuda Piega marce Corruzione Ma questo in realtà L'abbiamo già visto No 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 Eeeh Non iniziate così Non iniziate così Non esiste Fatevelo passare Dalla testa Abbiamo appena Iniziato Non cominciate Con la bassa Determinazione Se no io inizio Con le alte Bestemmie Cioè Questo è il parametro Fondamentalmente Poi pardon Ma che ci ha dato Borsa dell'esploratore Si Fa cagare In realtà Come bonus Oh Questo è utile Ma non abbiamo le persone Per raccattarceli Comunque è pieno di uova Uova da tutte le parti Cazzo Ragazzi fatevi piacere Le uova Perché qui abbiamo uova Per i prossimi millenni Un bel po' di persone Eeeh Due umani Assolutamente Eeeh Spirito Ribelle Prendiamo questo Perché mi aspetto Di avere un alto Tasso Di determinazione Cioè Di determinazione Di indeterminazione Che chiamatelo Come cazzo Vi pare Insomma Un alto tasso Di schifo Qui sicuramente Vi lascio costruire Le Le casse Perché ne abbiamo Una certa Necessità Ora come ora Ok Più altro Almeno speriamo Che quello Vi faccia aumentare Ma che cazzo Di merda Mi stai dando Porco Giuda Dimmi che lo fai apposta Ok Purtro Vi posizionate lì Così iniziate a scavare Tutta quella zona Voi avete finito qui State lavorando là Perfetto Bravi ragazzi Nuovi obiettivi Esplorare 4 Si può fare Eeeh Raggiungi livello 1 Con 2 insediamenti Sulle vie commerciali Consegna 10 Pacco di beni di lusso Eeeh Purtroppo questa Per quanto Oggettivamente A me non piace commerciare Eeeh Il commercio Non mi fa impazzire Anche perché Non è Prentamente automatico Quindi ogni volta Oggettivamente è abbastanza Un trauma Sistemare questa situazione Qui stiamo costruendo Case per tutti L'ultima dovrebbe bastare Veramente per tutti Ok Sbam Siamo a cavallo Eeeh Alloggi per arpia Carne seccata Biscotti Torta Che cazzo di roba strana Mi chiedete voi Almeno loro vogliono Sottaceti Religione Cosa molto più Fattibile Oggettivamente Molto 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 Più fattibile Qui chiaramente Me ne metti due E me li fai lavorare qui Qui non ne abbiamo altri Ma abbiamo Verdure No Quindi che cazzo Mi mettete a fare voi Le verdure Eeeh I funghi Cioè Funghi Perché no Ok Mi sistemate loro Poi dobbiamo andare a prendere Pure loro Ok Sempre con i funghi Tanto qui abbiamo Un'altra bella riserva di funghi Allora ci siamo avvicinati Drasticamente In zone dove magari Era Pragmaticamente Meglio non avvicinarsi E magari Se riusciamo a sfoltire Tutta questa zona Perché no Costruiamo il quartiere Commerciale Direttamente Dietro il magazzino Non so perché Voi state avendo Queste assolute Indiscriminate perdite Dal punto di vista Del Come si chiama Del personale Sulla legna Ok Tutti Sono impazziti Ora Non ho capito Ah Stanno No Stanno diminuendo Perché diminuite Tesori miei Perché Cioè Avete le casse Avete tutto ciò Di cui avete bisogno Per un momento Ho visto due E dicevo Ma che cazzo State combinando La legna Ce l'abbiamo Come notate Quindi Oggettivamente Non capisco Perché Odiano così tanto Questo mondo Con questa essenza Completiamo Certamente Due venti Radura Me ne dai sei Certamente Li mettiamo A qua lavorare Anche se Questi venti Non sono bruttissimi Non sono affatto Bruttissimi Averne venti A disposizione Dico Di robe Di vino Se comunque Qua non ce la faremo mai Abbiamo Degli stronzi Che sono Inaccontentabili Veramente Come cazzo fate A odiare Così tanto Il mondo Veramente Non me lo capacito Cioè più che altro Qual è l'errore Abilità iniziale Quello del più Una specie nobile Fragile Ma che nasconde Un lato primitivo E aggressivo Hanno perso La qualità di volare In seguito a secoli Vabbè questo L'abbiamo visto Iniziano ad abbandonare Tutti la zona È abbastanza normale Teoricamente Hanno tutti i bonus Di cui necessitano Questi figli di puttana Però semplicemente Sono fragili Che io Fino ad ora Voglio dire In un ambiente così ostile Tipo Come cazzo avete fatto A sopravvivere Però farò finta di nulla E continuerò A farvi lavorare Come se nulla fosse Me ne dai il più possibile Così almeno Rimpiazziamo quelli Che abbiamo perso Guida funghina Cambia L'accademia reale Vuole una mappa Della zona Ma in realtà Visto che Stiamo esplorando Un sacco di zone Contratto Contratto di esplorazione Non sarebbe male Però In realtà Fanno tutti cagare Ci teniamo un po' Di denaro Per la prossima Manche Diciamo così Di esplorazione Qui Hai schifo Però aspettate Prima di Usufruire Di questi Magnifici E brillanti Sistemi Di Commercio Chiamiamoli Chiamiamoli Come cazzo Vi pare Tu ti metti Qui Ok Tu ti metti Qui così Tutta questa Bella area E tutta Bella coperta Eh guarda che Bello Ora Sistemiamo per bene Il restante Tra mantelli Fiasche e pergamene Potrei preferire Petrolio Però in realtà Tutte e due Richiedono istruzione Quindi le pergamene Ci servono Che merda Però eh Allora Teoricamente Qui ogni Radura Ha un grande Nodo Di risorse Perché questa È la peculiarità Dei cosi Quindi aspettiamo Di bucare Qui E preghiamo Gli dei Che il tutto Vada per il meglio Zog ti prego Dammi qualcosa Di ultima Ma manco Per il cazzo Zog Cioè però Nemmeno ti sei Sforzato Veramente Imbarazzante La situazione In cui mi hai Messo Purtroppo Avere Zero Castori E tutto il resto È un trauma Come sempre È un piccolo E simpaticissimo Trauma Il quartiere Industriale L'abbiamo anche Posizionato Il problema È tutto il resto Che non funge Quindi Cioè il quartiere Industriale Volendo Lo possiamo anche Piazzare Non è che l'abbiamo Piazzato La sezione Posizioni Uno Oddio Incarichi nuovi Questi mi traumatizzano Ma ti potrei dire Di sì Il problema È trovare I campi agricoli E te ne esploro Anche cinque Perché no Dicevo Quartiere Industriale Posizioni Qui Questa volta Ne posizioniamo Quattro Vaffanculo Così almeno Non abbiamo Più il problema Di stare Dietro Queste cazzate Tutto loro Ogni volta Ok Uno Due Tac Tac Perfetto Uno Due Ok Quale fonte È finita Oh Mi hai dato La carne Mi togli queste Tre uova Di qui Che cagano Il cazzo Oggettivamente Tu Vieni spostato qua Qui Servono altre Quattro case Così almeno Diamo riparo A tutti quanti E tutti sono Beatamente felici Per quel poco Che oggettivamente Possono fare Queste zone Però Oggettivamente Sempre meglio Di niente Qui Mi utilizzi La pietra E mi spegni Questa Qui le tubature Non ancora Qui usiamo Quello che abbiamo A disposizione Uno Due Uno Due Sempre Solita roba Pietra Solo E mi spegni Le tubature Ok Così almeno Possiamo subito Iniziare La costruzione Di Casse specializzate Sperando che questo Aumenti abbastanza Il progresso Stavo dicendo Signori Fatemi controllare Se sta registrando In realtà Comunque Ad ogni modo Ci è utile In entrambi i casi Per cui ci danno Un bel po' Di ambra E un bel po' Di essenza Di incendio Che comunque È molto utile Come però Sarebbe anche Molto utile Prendersi così A buffo Un punto Totalmente gratis Il punto è Che non mi ricordo Nella stazione Commerciale Ah no Possiamo fare Con le uova Beh allora Certamente Che ce lo facciamo Un punto a gratis Non si rifiuta Mai eh Quindi mi metti Una stazione Improvvisata qui Ok E Mi consegni Le quattro radure Così abbiamo Pure gli altri Dieci Siamo a venti Giusto Sì Ci manca solo Questa zona qui Quindi mi dai Priorità cinque E Li mettiamo Tutti quanti A costruire Qui Pacchi Di risorse Mettiamo due arpie Perché no 3 6 7 8 9 11 12 Dovrebbero lavorare 3 portate Dovrebbero fare 3 4 Sezioni Di lavoro Chiamiamole così E siamo a posto Quindi non è Di fatto Eccessivo Ma perché Il mondo Vi odia Cioè Perché il mondo Vi odia Spiegatemelo Nemmeno posso Elargire Favoritismi Che poi tra l'altro Se aumento l'oro Diminisce tutto il resto Quindi Non è nemmeno Questa Comunque Gran genialata Solo che non capisco Perché vi sta andando Tutto così male Cioè Non mi sembra Che l'accampamento Abbia tutti questi Problemi Ehm Ehm Mettiamo L'unico Umano A nostra disposizione Perché purtroppo Ci servono Questi pacchetti Di merda Ma pur sempre Ci servono Che piaga E' bello che ora Più andrà avanti Più sarà un casino Perché aumenterà Sempre di più E non capisco Oggettivamente il perché O è forse Perché si influenzano A vicenda Ehm No Ogni abitante Con il bisogno Di istruzione Soddisfatto No La corona è cremente Anche con le merce Continua ad arrivare L'impazienza cresce No Se lasci riposare L'acqua piovana Per qualche tempo Questo inizia a rilasciare Un vapore caldo e piacevole La velocità di produzione Del cibo aumenta Del 15% Per ogni 50 unità Della piovigine Conservata Non è male Come roba Perché in realtà La piovigine Noi non la usiamo Spesso E Visto che rimane La a marcire Tanto vale Usarla Ok Visto che ci siamo Mi piazzi anche I collettori di pioggia Uno qui E uno qui E una volta abbattuto questo Qui ci potremmo piazzare Tutto il quartiere commerciale Di cui abbiamo bisogno Artiere Si chiama Cioè una persona Che lavora qui È un artiere Che non l'ho mai sentito Come nome Mai Proprio in nessuna forma Però va bene lo stesso Ci prendiamo almeno qui Lucertole Compagnia bella Tu Mi abbatti Gentilmente Tutta questa simpatica Zona E Qui a quanto siamo 12 Perfetto Smonta qua Non ci serve più nulla E Mi lavorate qua Perché no Un punto in più Non fa assolutamente male Qua potremmo piazzare anche Una miniera Rame E coso Non sarebbero Una bruttissima idea Non sarebbero A quattro Una bruttissima idea Abbiamo fatto bene A sviluppare il coso Perché era abbastanza prevedibile Che Mi metteva roba Da tutte le parti Fondamentalmente Qui tra l'altro Abbiamo anche quasi finito Questa robetta qui Però Va bene così Mi sento anche abbastanza Paccatamente Abbastanza e pacatamente Soddisfatto Qui Me ne metti a lavorare uno Qui Anche uno Bastano Alla fine Uno e due Tessuto No no Questi mediattivi Qui con tutte le varianti Questo Solo con la pietra Perfetto E mi spegne le tubature Dovevamo aumentare un po' più Qui la zona Infatti credo che Ora abbattuti questi alberi Tipo Ora Me li richiami tutti E me li metti All'opera Perché qui Vorrei liberare la zona E aumentare il più possibile La nostra capacità Diciamo così Di trasporto Qui perché no A questo punto Non lo puoi piazzare qua Ma si Non è che dobbiamo fare Per forza Tutto in maniera Perfetta Ed equilibrata Possiamo anche fare Una roba simile Non è Bruttissima Come idea Ok Quanti non abbiamo A fare un cazzo Uno Che in realtà Diventeranno due Appena sblocchiamo questi Vecchio mio Ma ogni dieci bacche Ma chi cazzo Se le incula Il mulino a pioggia Ma non ci servono Ste robe Ragazzo mio Cioè Da veterani Perché sono stronzi Non peraltro Fondamentalmente Un altro ordinino Aspetta 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 Cosa cazzo Sto vedendo Noi di ordini Ne abbiamo pochissimi E siamo solo al tre Non arriveremo mai A finire tutto questo Cioè Quindi lo dobbiamo fare Solo con la determinazione Porco Giuda Porco Giuda Sarà un inferno Sarà un maledettissimo Inferno Ne siete coscienti Di questo Vero E veramente Sarà un inferno Come cazzo Facciamo a sistemare Una roba simile Una roba simile Non la sistemi Te la prendi in culo E basta Oggettivamente Dall'altro qui Quanto cazzo di tempo Ci stanno mettendo A sistemare Sto cazzo di cimitero Dai ragazzi Che se non qua Facciamo una figura di merda Ok Qui Tra l'altro Schifo Ne servono dieci Per sistemare Quest'altra roba Tu amico mio Che sei la nostra Unica fonte di cibo Mi sposti qui Perché no Un po' di carne Non farà male E Potremmo piazzare anche questo Per una raccolta dei funghi Sarebbe male Cioè qui Pure che gli è l'aumento Cambia di un cazzo Il mondo odia Questo insediamento Per motivi A me Pallesemente ignoti No Ributta giù Se non riusciamo a tenere su La La cosa Odiate il mondo Cosa vuoi che vi dica L'acqua della tempesta C'è pure poco cibo C'è pure la Tana della mamma Che ti ritrovi Un artiere Ha lasciato la zona Lo sostituiamo subito Qua ne piazziamo due Tanto non abbiamo Grandi cose da costruire Forse metterne quattro È stato un po' Una cazzata Sai Perché non abbiamo Proprio abbastanza Legna A disposizione Cannibalismo Non è male Perché qui Molte persone Se ne vanno Per quanto è poco etico Me ne frego E me ne sbatto Altamente i coglioni Ok qui lo piazziamo Già in maniera Sbilenca Diciamo così E mi costruisce assolutamente Le case Per le lucertole E per le arpie Perché poi Non abbiamo più Altra forma Di mora Ero convintissimo Che quello per le arpie L'avevamo sbloccato Sapete Invece No Quindi Riassunto Ce la prendiamo in culo Ok Qui dobbiamo iniziare A prendere robe Fondamentalmente A caso Quindi Carbone Carne essiccata Si può fare Mi dai Questo Quando lo troverò Negozio Dell'artigianato Non è male Laboratorio Di carpenteria Gnie Pressa Va bene lo stesso Bagno pubblico Cura medica Tempo libero E lusso Zuffa e istruzione Mi prendi Zuffa e istruzioni Perché Più di tutti Ci serve Perché ci può Garantire Comunque Di soddisfare Più bonus Contemporaneamente Per quanto riguarda I nostri amiconi Quindi qui mi piazzi Quello In seguito Mi piazzi Qui dietro Ehm Altre case Per umani Ok Quindi ora Tutte le robe Ce le facciamo Fondamentalmente Solo di Come si chiama Solo ed esclusivamente Di Di determinazione Tutti gli altri punti Questo potrebbe essere Un attimo Un problemino Un attimo Un problemino Mi ho messo un po' Di sale da lavoro Però cazzo guardate Come lavorano bene ora Abbiamo una quantità Veramente assurda Di bonus Per i bonus Di materiali Per costruire Tutte le varie case Ok Ehm Qui mi piazzi Altre due case Per il certore Spero di averle Piazzate bene Sì di qui è l'entrata E mi piazzi Anche a questo punto Una cosa per la comodità Sempre i barili Che non fanno mai schifo Ok Tac Tanto teoricamente Tutti ora hanno L'alloggio Anche perché Man mano che facciamo Scasare Diciamo così Gli umani Le lucertole Nelle rispettive case Aumentiamo Qui Due Uno Tre Assolutamente Assolutamente Le lucertole Sono cinque volte Più gestibili Delle normali Delle altre specie In generale C'è poco cibo C'è poco combustibile Avete rotto il cazzo Come fai a dire Che c'è poco cibo Cazzo Cioè c'è tutto il cibo Del mondo Una Ehm Credo che pure voi Vi devo spegnere Perché Se continuiamo così Ad avere poca legna Non ne usciremo mai Fondamentalmente Quindi per ora Che abbiamo funghi lì E qui Li raccogliamo Ok Già Una sezione Abbastanza basica L'abbiamo costruita Qui mi continuo A interrompere Che è una magnificenza Veramente Ad ogni modo Però Un calcolo importante Il fatto che abbiamo capito Che quattro Non bastano Per Tre taglialegna Ce ne servono Di più Molti Di più Tra l'altro Voi mi mettete là Per evitare Che mi bucate Veramente da quella zona E qui creiamo un casino E mi rompete Tutta questa parte Di foresta Ti prego Ti prego Qualcosa di buono Vabbè Esplora radure Esploriamo radure All'infinito Istruzione Lo possiamo fare Terminazione Rasenta quasi lo zero Non abbiamo nemmeno più roba Ma poi come cazzo faccio Cos'è che mi mangia Così tanta legna Mi ho spento tutte le cose Solo loro ci lavorano Abbiamo nemmeno più pietre Questi nemmeno mi avvisano Porca puttana Ok Mettetevi lì C'è poco combustibile La bassa determinazione C'è poco cibo Forse per tutti questi avvisi Non mi ha Fatto spuntare Il fatto che Abbiamo altre Pragmatiche Situazioni Scomode Un'erbalista Siede nel fatto Che non abbiamo Mezzi per Sostentarci A lungo termine Non capisco nemmeno Il perché oggettivamente Altare del Decadimento Una strana statua di pietra Sinistra Creata Per adorare La piega marci I seguaci vi hanno Scolpito Questa incisione Niente sfugge Alla morte La madonna Eeeh Venti di tanta roba Che noi non abbiamo Rituale proibito Sacrifici orribili Offerti alle creature Intrappolate dai sigili antichi Forse questo La terra addormentato Per un po' più a lungo Prega che questa notizia Non raggiunga mai Le orecchie della regina Uccide un abitante casuale Oh Bene Armonia Ma chi cazzo Se ne frega Dell'armonia Gli dai fuoco Brucia la cisti Di piega marcia Richiede 10 secondi In più L'ostilità aumenta B più 30 punti Per ogni essenza Di incendio Conservata nel magazzino Dell'insediamento Quanti ne abbiamo 4 Vabbè E' fattibile Credo Ovviamente ci stiamo andando A buttare in qualcosa Che non dovremmo In nessun modo In nessuna forma Toccare Però va bene lo stesso Dai ci accontentiamo Allora Eeeh Non casa Delle lucertole Dobbiamo basarci Sulla sede dei ricognitori Eccola qua Però questo fatto Sempre che Ha un pelo E' sempre un pelo Spostata più in là Porco giuda Mi da il cervello Vendimi qualcosa di utile Ah no Questa è quella di prima Pure io subito Eeeh Lusso e cura medica Effetti passivi Carretti del mercato Possiamo prenderlo Il mercato Non l'abbiamo mai preso Dà comunque Cura Tra l'altro E' enorme Porco giuda E' enorme Non possiamo piazzarlo Da nessuna parte Vicino il mercato Perché è pieno Di stecazzo Di uova Di merda Eeeh Ci converrebbe Piazzarlo Qui Sì No Perché non possiamo Spostare le robe Pappanculo Rifugio sicuro Stitale si dice 40 per ogni Focolare migliorata A livello 2 Vicinato Alcuni taglialegni Non riescono proprio A mettere Ottieni 3 barilli Per ogni 10 assi Che produci Non male Non male affatto Perché qui Produciamo tante assi Purtroppo Il mio quartiere Commerciale E' abbastanza povero Ma Pur volendolo Potenziare Il mio dubbio è Come Ne rispondiamo In seguito Alla richiesta Di tutti i materiali Che ci chiederanno Da qui Ho costruito Sartoria E Negozio Dell'artigiano Che sono fondamentalmente Uguali Che figura di merda Poi mi chiedete Perché sta andando male Ma grazie al cazzo Non riesco a calcolare bene La costruzione Di tutti gli edifici E' normale Che mi va male Ok Due fatto Costruiamo Le strade Per quel po' Che le uova Ci permettono Fondamentalmente E qui mi metti Una bella Carbonaia Ok Non male Una carbonaia E Potremmo mettere Pure la miniera Però in realtà Non ci serve Più di tanto Qui Non possiamo Usare questo Come Non possiamo Creare Usare la pelle La cosa Però comunque Non produciamo Né pigmento Né altro Quindi per ora Ti limiti Alla produzione Di Cose Qui abbiamo Arpie Vabbè che le arpie Sono Le abbiamo quasi Spopolate Giustamente Qui credo Che serviranno Sempre arpie Ti spegni Questo I barili pure Mi producite Mantelli Ma mantelli Come se non ci fosse Un domani Porco giuda E qui mi servono Un certo Cioè mi stai dicendo Che siamo in una situazione O tanto paradossale Che Non servono Le cose Come si chiamano Siamo in una situazione In cui non servono Le Le arpie Cioè le Le arpie Gli umani Non servono un cazzo In questa zona Ed è tanto Magnifico Quanto ripilante Allo stesso tempo Qui mi usi La carne E gli insetti Qui a disposizione Produci un po' di carbone Che dovrebbe bruciare Più a lungo Sostituisci Due umani Metti qui Le due lucertole Perfetto E abbiamo Abbozzato Un quartiere Industriale Ma assolutamente Totalmente Inefficiente A essere sinceri Sì mi fai Un bel carico Di cose Tanto qui Non è che possiamo Fare molto Piazzi l'altro Ok Tutti lavorano In maniera Felice Magnifica Però è sta roba Che c'è poco cibo Ma perché c'è poco cibo Abbiamo questo Che raccoglie funghi Questo che raccoglie carne Perché c'è poco cibo Questo che raccogliono Loro che raccogliono Eh raccogliono Sì raccogliono Raccolgono pietra La cosa che mi si sta Impennando In una maniera assurda E assolutamente Ci dobbiamo impegnare Nel ricercare Altre fantastiche Mitiche zone Direi che quindi A questo punto Ci possiamo espandere In questa parte Della mappa Ok Portateli tutti di qui Ok Mi fate un buchino qua Sperando di trovare Cose effettivamente utili Tutti hanno casa Tutti tutto sommato Se la vivono bene Ci servono altri 8 robi Quindi 1 2 3 4 E siamo a 8 E 4 Di estetica Di estetica Per ora Mettiamo qua Finito il quartiere Capiremo bene Come Strutturare il tutto Oddio Questa che cazzo è Magazzino piccolo Sì potremmo ricostruirlo Ma non ci serve A un cazzo Oggettivamente Che palle Che mi dai Questa roba Che io non posso Gestire Tesoro mio Sei un po' Figlio di puttana Lo sai vero? Ok Sei un bel po' Figlio di puttana Quindi giustamente Abbiamo caricato Tutta l'acqua E tutto il resto Come ho detto Perché abbiamo Tipo 250 Ah siamo arrivati A livello 4 Giustamente Ci mancherebbe È inutile Che accendo il fuoco Tanto per come Siamo messi La situazione Andrà solo Più di merda Questo mi sembra Un bel fallimento Mi sembra un bel fallimento Come Zona Perché Gli incarichi Sono tosti E Come se non bastasse Siamo nella merda Qui Quanta Soldi abbiamo Abbiamo zero Se non sbaglio No Sì ne abbiamo zero Ma allora Buttati in questa impresa Maledizione dei miei coglioni Me ne frego il cazzo Ok Dovremmo andare avanti Esplorando le varie zone Fondamentalmente È l'unica maniera Ma perché vedete Solo quando Piaga Piaga Quando cade la tempesta Per il resto Noi siamo di solito Sempre a posto Ok Questo me lo piazzi qui E il mercato Me lo dovresti piazzare Da questa parte Teoricamente È l'unica maniera Per provare a fargli azzare Un po' la La cosa Come si chiama Il loro bisogno Non la stazione commerciale Magari la stazione commerciale Il mercato tra l'altro È esuberantemente enorme Potremmo piazzarlo lì Non sarebbe male Quindi Me lo metti qui Mi togli tutto sto schifo Ok Mi togli sta roba Tanto non abbiamo Assolutamente Nessuna forma Guadagno Le risorse Le risorse Sarifichi Nei focolari Bruciano Antico Bruciano Il 5 certo Più a lungo Per ogni punto Impazienza Che hai Beh Sì Assolutamente Sì C'è poco combustibile Ma è bugia È bugia Oh grazie Che qui abbiamo terminato Visto che ci sei Questa zona è piena di uova Me le prendi tutte Proprio senza discriminazione Ogni forma di uova Che hai a disposizione Me la prendi E me la trasmuti Qui ci stanno mettendo Anche un bel po' Piccolo magazzino Potrebbe essere utile No Credo proprio di no Oggettivamente Qui sto mettendo a 13 Qui a 16 Non è il massimo però Poco cibo Poco coso Perché abbiamo così tante Poche risorse Sembra quasi fatto apposta Oggettivamente Qui credo che non abbiamo Costruttori Di fondo Perché i materiali Teoricamente li dovremmo avere No ci mancano Veramente i materiali Ci manca il tessuto Wow Lei comunque Una priorità 5 Ok Tutti nel mentre Continuano ad avere case E dobbiamo sperare Purtroppo siamo in una fase Troppo lunga Di stallo E non va bene Affatto Non va bene Affatto Ci spostiamo a nord Allora A liberare questa zona Ok E vediamo qui Che cosa troviamo Sperando di trovare Qualcosa di veramente utile Sendo conto Che ci manca Alla fine Una sola radura Da esplorare Anche perché Così abbiamo Tanti umani Ma pochi C'è tanti umani Tante persone Ma poche di queste Possiamo usarle Per soddisfare Varie situazioni In giro Per la mappa Ok 3 Qui siamo a 3 Qui a 2 Quindi qui arrivano 3 Qui a 4 2 Li possiamo già Prendere velocemente Il problema Poi è sempre Qui trovare Altre 4 Travolette Come se fosse Un gioco Da ragazzi Qui ci manca In generale Tutto Cioè Qui si Potrei prenderti Il grano Però Non mi serve Un cazzo Sempre Poco cibo Poco tutto Ma questo è il problema Di non avere campi fertili Che io li sto cercando Disperatamente Oh Grazie a Dio Grazie a Dio Cosa è successo Una benedizione Dall'alto Un Non so Cosa Dalla nostra Parte Non abbiamo un cazzo Da poter mettere Abbiamo un cazzo Da poter mettere Qui Non ci voglio Credere Dai ragazzi Dai Ma che cazzo Fatevelo dire Oh Ora abbiamo questo Possiamo sfruttare La pressa Strumento Particolarmente Utile A questo punto Meno sposti Di qui Volebbe più Pragmaticamente Efficiente Mi dai una priorità Cinque Un altro Bel mercato Guarda ora tutti Come impazziscono Qui Perfetto Sempre una bella stradina Nonostante c'è questo pozzo Poi del resto Chi se ne frega Dove stai tipo L'ilva di Taranto No Stai qui tranquillo A fare i cazzi Doi In un certo punto Vai al mercato Dietro c'è un geyser Di roba Molto probabilmente Radioattiva E pericolosa Ma Noi Che cazzo Ce ne frega Di questa roba Oggettivamente Noi di cattiveria La usiamo E lo so che qui I santuari Gli esploratori Sono inattivi Ma Fino a quando Non abbiamo Della roba Che ci aiuta A sistemarla Non possiamo Adoperare E avere le tre Tavolette Qui sicuramente Mi smonti Questo Ok Abbassato pure Agli umani Dai ragazzi È inguardabile Che si abbassa pure Agli umani Non si può Non si può Il fatto Il fatto che c'è poco combustibile Mi porta a dire Di costruire Un altro Taglialegna A questo punto Perché È veramente Indicibile Che non abbiamo Non riusciamo A sostenere Il nostro Spesso Consumo Di legna Per il cibo Ne piazziamo Un altro Qui Solutamente Due umani Volate A produrre Qualsiasi cosa Producete In questo campo Grano Verdure Qualsiasi cosa Mi abbattete Questa zona A questo punto Io lo collego qua Che è molto più pratico E Qui dobbiamo Trovare assolutamente O uova O funghi O qualsiasi cosa A nostra disposizione Per smontarlo Perché ci servono Le tre tavolette Tra quattro minuti Si incazza Quindi Mi vai di funghi È la nostra unica possibilità I funghi Che poi Dopo Se io ipoteticamente Ti sposto Non ce li abbiamo più I funghi No Quindi dobbiamo andare Per forza di uova Diverso Drammaticamente Per forza di uova Mi costruisci Un altro Di questo Perché così Non riusciremo mai A ottenere Un cazzo Ok Dai priorità Cinque Dimmi ti prego Che abbiamo Gli ingranaggi Dimmi ti prego Che abbiamo Gli ingranaggi Sì Li abbiamo Grazie a dio Ok Nessuna risorsa Ma non ti preoccupare Che le risorse Te le faccio Piovere dal cielo Ci servirebbe Un'ultima radura Da esplorare Che ripeto Non sarebbe Questo grande problema Se non fosse Il fatto che Ehi Guarda come va Non abbiamo Un cazzo Che ci può aiutare Fondamentalmente Sotto questo punto Di vista Quindi mi continuo A costruire Potremmo fare Il lavoro Di relazioni Sì Sì è fattibile Come roba Il problema È che nessuno Ci arriva Al minimo Indispensabile Di Lavoro Condivisibile Qui giustamente Non hanno più niente Idem qua Ok Mi ci metti Le uova Quando ne abbiamo 16 uova Col cazzo Che riusciamo A fare Qualcosa Di veramente Utile Mi sposti Sto schifo Da nessuna Parte Perché Non serve Più Me lo abbatti La zona Funghina Non troviamo Un cazzo Di funghi Questo veramente Per me È il colmo Dei colmi Datemi più 5 a quello Mercante Uuuu Dis Da quanto tempo Cioè da quanto tempo Non l'abbiamo mai beccata Più 3 produzione di assi Ottieni assi in più Ogni resa Da raccolta Ottivazione Produzione Che non è male Non è male affatto Assi Per l'asciugatura Il tempo passato A riposare È ridotto il 30% Sotto l'effetto Di indumenti Non sono male entrambi Però preferirei La produzione Di questi Oggettivamente Ora Medi disabiliti Un attimo I nostri amichetti Qui Perché abbiamo bisogno Di produrre Materiali Che noi non riusciamo A produrre Giusto Perché non abbiamo Nessuna forma Di tessuto Fondamentalmente Qui mi metti Ne abbiamo 7 A nostra disposizione Per ora Quindi fai una roba 1 2 3 1 2 Ok Eh giustamente Sta calando a picco Wow Ho bisogno di uova Vi prego Lavorate con le uova Con quel cazzo Che volete Ma lavorate Ve ne prego Ne ho bisogno Come cazzo Ve lo devo dire Qui trasformiamo Il grano In Petrolio E in farina Non è male Ma nemmeno bene Ok Qui l'unico Se possiamo fare È produrre carbone Quando ci arriva Qualche insettino Ok Vediamo un bel po' Di cose È morto Un taglialegna Ma perché Stanno morendo Tutte queste persone Porco Giuda Ora Ma cos'è Sono morti Di vecchiaia Non ho capito Porca troia Guardate se non Devo bestemmiare Sì Ci serve un nuovo Carico di umani Perché no Stanno continuando A morire Ma non capisco Il perché Ok Ora voi Vi concentrate Nel fare questa roba Assolutamente Ne abbiamo la necessità Raccogliete uova Da dove cazzo Vi pare Basta che lo fate Anche perché Il problema è che qui Le uova sono l'unica cosa Che noi effettivamente Possiamo produrre Eh Ora ce lo prendiamo Su per il culo Ah uccide cinque abitanti casuali Tra sette minuti Ne uccide altri cinque Ma porco Giuda Non abbiamo più legno E direi che Ci possiamo buttare In qualche raduna Che Radura Che è vicina A noi Però comunque Abbastanza spazio Tipo questa Sarebbe male Se ci buttiamo In questa Non mi dispiacerebbe Affatto Se almeno Completiamo pure Quell'altra zona Tu Chiaramente Ti sposti giù E dai una mano Nella rottura Anche perché Di fondo Almeno Omentiamo un po' E abbassiamo La roba Bassa Determinazione Di tutti Ormai Ci ho fatto più Che l'abitudine Ci sto quasi rinunciando Al successo Di questa partita Troppo in modalità Veterano Abbiamo avuto Questa roba Di questi due Stronzi Ci è girato male Che non abbiamo trovato Nemmeno un campo Agricolo E È stato tutto Bellamente una merda Oggettivamente Non saprei nemmeno Come fare Qui almeno abbiamo Consegnato undici uova Oh Ah quindi ci posso mettere Quel cazzo che voglio Ok Va bene lo stesso Qui Mi dai priorità cinque Stesso fatto Ok Colletture di pioggia Nessuno ci vuole stare Porco Giuda Ok Il mano costruttura Ha lasciato il villaggio Ma chi se ne frega Ma me ne sbatto il cazzo A due mani Ma perché sempre Sta roba Porco Giuda Sempre comunque Questa roba Cioè te ne ringrazio Ma anche Vaffanculo Allo stesso tempo Tu Ti togli dal cazzo E vieni qua Ok Abbiamo 400 di difficoltà Che bello Più 50 La produzione di beni Sì Assolutamente Piccolo campo di grano Deve produrre Per tutti quanti Miglio di uno Determinazione globale Per ogni tre livelli Di relazione Con gli altri insediamenti La produzione di funghi Aumenta di uno La quantità esatta Gli abitanti Con il bisogno di lusso Soddisfatto Ogni 25% Di probabilità In più Di raddoppiare La propria resa Inutile Dai ci manca Un uovo Ragazzi Un uovo Un uovo Un fottutissimo uovo Non vi sto chiedendo Moltissimo Edificio di fornitura Non ci serve un cazzo Non ci serve un cazzo Porco Giuda Ci prendiamo Le 5 radure Per quel po' Che possiamo fare Ci servirebbe Produrre Pergamene Qua c'era uno Che produceva pergamene Sì Ma ci serve Pelle Legna O pigmento E vino Che noi ne possiamo Produrre Né uno Né l'altro Bene Tempo libero E lusso Cambiamo un attimo Che schifo Porco Giuda Resina e rugiada Quando troviamo Il prossimo campo No questo fallisce Ragazzi Siamo uno sputo Dal totale Assoluto decadimento Non abbiamo Nessun tipo E forma Di risorsa Per sostentarci Lo Qui sta calando Il Tutta la voglia Di vivere E sopravvivere Non abbiamo proprio Un cazzo Che ci può servire Gli accampamenti Gli accampamenti Bastano Campo agricoli Come sempre Troppo grandi Troppo grandi Chiaramente Fosse bello Che fosse così Semplice Fosse bello Che fosse così Semplice Qui Oh ma ragazzo Ti sei deciso A finire A finire Questa zona Ok Oh perfetto Loro dovrebbero Aver finito Ragazzi Un po' più Lestamente Magari Sai com'è Stiamo per perdere La partita Ci manca un punto A perdere la partita E vorrei muovermi Uno e due Scassiniamo A tutto punto Mi ha dato uno scatto Assurdo Non è che mi sia andato Di nuovo in modalità eco No No comunque Mi dispiace signori Ma questa la si perde All'altro siamo arrivati All'anno Nove L'anno nove In totale Assoluta disperazione Ben si intende No per ora Non mi dai altre persone Anche perché Non so dove mettertele Non so oggettivamente Dove mettertele Se non mi dai i campi Diventa veramente Trastica Tu Ma inutile Inutile Tutti i pacchi di beni Di prodotti No Più due la produzione Di farina Ma non mi serve un cazzo La produzione di farina Cioè Oggettivamente Qui stanno da tre anni Che giustamente Non abbiamo più risorse Qui ce ne servono sedici Qui ne abbiamo consumati dieci E no Purtroppo ne consumiamo Altri dieci qui E non è che possiamo fare Molto altro Perché il problema Che qui sale anche Abbastanza velocemente Tutto il resto Che non aiuta Forno Ranch Possiamo prenderlo Il ranch Abbiamo la farina Però È molta poca farina Quello è il problema Ok Dov'è il ranch Eccolo qua Stavo vedendo Stavo vedendo un attimo Una statistica Così Ok Qui ci possiamo ficcare Teoricamente Altre quattro case No Ci vogliamo accontentare Di questa Ok Sì Qui stessa identica cosa Così 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 E così No Comunque qui L'ho sbagliato Perché io Teoricamente Questo lo posso Piazzare qua Ma non sarebbe Ducato Uno Due Sempre riparo Tre Perfetto L'unica cosa Che possiamo fare Di fatto Qui sì Ogni tanto Otteniamo un po' Ah Guarda che bello Che li hanno attivato Mi riattivi questi due Assolutamente Mi li riempi Di nuovo Di lavoratori A te Uno lo lascio spento Perché Pur volendo Mi produci Troppo 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 Cose Non bastano Ricognitore Mi metti lui Ok Fantastico Qui siamo a dodici Tutti felici Costruiamo ora pure il mercato E dovrebbe bastare Uno e due Lusso e medicina Che dovrebbe servire a loro No Cura medica Perfetto Teoricamente Ma non so Se costruirlo Aumenta Anche se inattivo Non lo so Oggettivamente Qui aumenta di 32 Qui aumenta di 16 Eh 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 In realtà no Sta andando di merda Però va bene Faremo finta di nulla Ti vendo la rugiada Perché tanto Non mi serve un cazzo Eh sì Ma pur volendo Ti posso vendere La farina Mi serve un merito Cazzo Con avidius Venti Per qualche pezzo In più In più Il vagabondo E la tempesta Reali È sicuro Il percorso Verso In sedia Di sedia I nuovi Arrivi Giungeranno Un 25% Più I elementi In sedia I elementi Floridi Attirano I coloni Ricchi Noi abitanti Portano Sì Il 40% Di ben In più Per ogni Livello Di focolare Guadagnato Guadagno 80% Perché no Sembra anche Tanto Qui uno Me lo metti A lavorare Per quanto In realtà Abbiamo tutti Così pieni Qui quel poco Di farina Che guadagniamo Lo usiamo Subito Per la produzione Qui possiamo Usare ora Le fiasche Che non ci servono Ne merito Cazzo Come possiamo Utilizzare la pelle Ma abbiamo Poco vino Tutto così Drammaticamente Poco Equilibrato Però stiamo Guadagnando punti Grazie al Cazzo Perché Sono tutti Rincoglioniti Hanno tutti Cominciato a Riodiare Di nuovo Il mondo Il senso E tutto Io Non so più Che cosa fare A questo punto Se non Continuare a buttarmi Nuove imprese E sperare Che queste ultime Ci diano Un buon approccio Quindi si Mi vai a esaminare Quella zona Loro stanno Lavorando Come si deve E Voi Mi esplorate Quest'altra Qui in fondo Purtroppo Non abbiamo Molte possibilità Di fare Nulla Oggettivamente Se ti tolgo La tripella Che ci guadagno Un cazzo Fondamentalmente Un cazzo Qui almeno Qualcosa La guadagniamo Però sempre Quello è il problema Pochi campi Fertili Poche strutture Industriali Degne I cosi Sono sempre statici E qui abbiamo Solo carne Grazie al cazzo Che quelli a mangiare La stessa cosa Si rompono i coglioni Una menza Che indovina Un po' Ci serve Tutte robe Che non abbiamo Potremmo sfruttare Questi Per fare Gli spiedini Wow Cazzo Se sono utili Gli spiedini Però potremmo Produrre i pigmenti Ora potremmo Produrre i pigmenti Che non sarebbe Malaccio Affatto Se ripararlo Me la smonti Ma Sicuramente Me la smonti Che non me ne faccio Un emerito Cazzo Di sta merdata Assolutamente Nulla Me ne faccio Mi togli uno Da qua Pure che ci mette Più tempo Chi se ne frega Lo metti qui Me lo demolisci E appena Altri due Ricostruiamo Questa zona Siamo sempre Lì sul Pelo Del fallimento Troppo a loro La determinazione Non aumenta Per un cazzo Per un cazzo Di niente Aumenta Perché giustamente Loro vogliono La zuffa La religione Gli spiedini Vogliono E li possiamo Produrre Qui gli spiedini Almeno quelli Possono essere Effettivamente Più utili Di quelle Che sembrano Ok Intrappolatori Raccoglietemi Questo di carne Oh ma Abbiamo un'altra Casa per umani Fermi tutti Giustamente Non abbiamo Costruito Pardon Ok Per il resto Più o meno Abbiamo anche Tutto Più o meno Abbiamo anche Tutto Me lo sposti Qui Me lo sposti Qui Perfetto Facciamo la stessa Cosa di qui Io l'ho detto E prima o poi Mi sarebbe venuto In mente Qualcosa Di più o meno Estetico Molto meno Che più Perché Quattro Sono i lampioni Ok Così Tacchete Ecco qua Non è il massimo Ma è Visibilmente Carino Ecco E' visibilmente Carino Su via Qui abbiamo Sbagliato Questo a piazzarlo Perché l'abbiamo Pazzato Malamente Ecco Così È molto meglio L'unica Consolazione Che ci rimane Sono le strade Anche perché Mi dispiace Che oggettivamente Non è che siamo Sul fallimento Siamo anche Abbastanza vicini A una certa Riuscita Il problema È Il come Avere quello Scatto in più Quella piccola Scintilla Che ci permetta Di fondo Di Riuscire Nell'impresa Perché ora Come ora Stiamo semplicemente Fallendo E lo dovremmo Anche Paccatamente Accettare Solo che io Mi rifiuto E spero sempre Nell'ultima Famosa Botta di culo Ok Per questo punto Stuposo No no Me lo riattivi Perché l'ho spento Porco Giuda Lavorate Dai Me ne dai qualcuno In più Tutti hanno la casa Perfetto Ne metti tre A lavorare qui E me lo Ricostruisci In toto Mi togli questo Mi togli questo E uno Me lo sposti Nella ricerca Di Qui siamo arrivati Alla fine Proprio Dicevo La ricerca Di un'altra Zona Magari Guardate che sono avanzate Solo le zone Più drastiche Più difficili Porco Giuda Porco Giuda Ti prego Dammi qualcosa Di utile Speriamo che la regina Non lo scopra Puoi scegliere un progetto Tra tutti quelli sbloccati Contrabbando Sessanta Non è male Però dobbiamo riflettere Bene su cosa ci serve Non è male Ma dobbiamo riflettere Bene su cosa ci serve Aumenta il 20% La velocità Di produzione Del cibo globale Non è nemmeno Questa male Sei E diciassette Credo ci manca Giusto qualcosina Per non riuscirci Ma quindi in caso Io li vendo Tranquillamente Le tavolette Tanto Tanto Chi cazzo Se le incula 15 No Io ne voglio 16 Porca puttana Prendi un po' Di assi di legno Tanto non mi servano Cazzo di niente Ti prendi le tavolette Ok Arriviamo a 99 Quanti cazzo Di soldi Che abbiamo E ci manca poco Ci manca poco Due punti fondamentalmente Per caso Vendi anche strumenti Sì Lui li vende Gli strumenti Gli vende Gli strumenti Allora Cosa ci manca Il ranch Lo abbiamo La pressa L'abbiamo La farina Qui 34 Ok Ti do Tanta legna Ok Cento Quanto te ne dovrei dare 34 E 65 Ok Dai 15 strumenti Questo me lo compri Che ne abbiamo assolutamente bisogno Per aumentare la produzione Di tutti Di cibo Così non abbiamo almeno Più cibo Cioè non abbiamo più problematiche Di cibo E ci possiamo salvare in angolo Ci possiamo salvare decisamente in angolo Perché se io prendo questo Già arrivo qua Cioè un punto Me lo dai Oh devo arrivare a metà Insomma poco più No credo che arriverò più che altro A metà di questo Il problema poi È Ehm Guadagnare l'ultimo spicchio L'ultimo maledettissimo spicchio Grazie a Dio che abbiamo spirito ribelle Che ci sta dando dei bonus assurdi Ehm Che altro Come ottenere l'ultimo spicchio E la domanda Dall'altro ci da 40 Pergamene Immaginate che culo sarebbe Perché le pergamene ce le da 30 Ok Però non sappiamo se bastano Per soddisfare tutto il coso di istruzione Quindi per ora ci conviene Prendere il punto sicuro Perché è chiaro che lì Ce l'abbiamo Tra l'altro fatemi vedere Nelle altre pergamene se sta Cioè nelle altre cose Se ci sono tipo Ehm Cose che ci permettono No Nulla di tutto ciò Quindi niente Ci arrangiamo con questo Qui già ne mettiamo due E me lo invia la cittadella Poi almeno ci riprendiamo pure 30 Siamo a cavallo I soldi Insomma Li guadagniamo Il problema risiede fondamentalmente Praticamente Nella questione Che qui tu mi produci Pigmento Da un bel po' di roba Dal pigmento Noi otteniamo Ehm Le Ma che qui tra l'altro La miniera sta ancora lavorando Ah si ecco Dicevo Cazzo Non li sento parlare Non li sento da un boato di tempo Quindi mi chiedevo Ehm Abbiamo Quello che produce la carta Lui Che possiamo sfruttarlo Per produrre Insomma Abbiamo uno e due E poi abbiamo il pigmento Che non è male Come idea Non è male Zog Contrabbando Che cosa mi puoi dare Abbiamo un botto di roba Il problema è che a noi ci mancano proprio le risorse prime Non è che dici Cazzo abbiamo tutto Ci manca giusto una cosina No Non abbiamo proprio bisogno assolutamente di Tutto Dovremmo produrre il tè Non tutti Di strade Accampamenti No ma chi cazzo Sero in quelli Incampamenti Produzione di cibo No Alloggi Che non sarebbe male La casa per le arpie Però non abbiamo Comunque i tessuti L'industria Questa partita Sta veramente Una cosa fiaccante Tanto 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 Fiaccante Birra e pergamene Petrolio Mantelli Incenso Farina Baridi E pacco Di rifornimenti Attrezzatura Da D'addestramento Quanto mi serve D'addestramento Legna e pietra Ma allora Lo possiamo fare Così almeno Soddisfiamo Sto cazzo Di bisogno Di merda E almeno Possiamo produrre Pure le cose Almeno ci concentriamo In qualcosa Bottega dello Speziale Potremmo fare Il tè Però il tè Ci serve sempre Le barre di rame Che non riusciamo A produrre Quindi si Vai di fonderia La fonderia Di cattiveria Me la piazzi qui Ok Tac Così almeno In somma parte Dovremmo riuscire Ad Arriginare Questo problema Qui me ne costruisci Un altro Aumentando La priorità 5 Un coso Me lo stai consegnando Qui stiamo facendo Breccia Nella nuova zona Che prego Veramente gli dei Che abbiamo Tutto Ciò che Poi necessitiamo Qui Potremmo usare Le uova Le erbe Non ancora Però 2 Te li metto A lavorare Così almeno Se possiamo fare Qualche scambio Lo facciamo Giustamente Abbiamo un'altra pietra Quindi non mi preoccupo Voi date una mano Agli amici frizze Sennò qui ci mettono 10 anni A fare breccia Io bestemmio Come un turco Perché poi Non abbiamo Abbastanza Cioè Perdiamo sul pelo E mi dà fastidio Perdere così Però comunque Ora comincio a diventare Tanto 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 Complesso Questi li ho messi Dall'inizio Riescono a raccapezzarsi Nemmeno tra di loro Porco giuda Segnala Ma certamente Che te lo segnalo Where is the problem My friend Ne abbiamo 6 Fra poco Ci producono gli altri Ecco Guarda là Perfetto Segnala E mi dai un punto Queste sono le botte Di culo Signori Queste sono le botte Di culo Le grandi botte Di culo Cioè Specifichiamo Anche quelle piccole Ehm Fu 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 Inviamo la cittadella Per ora non abbiamo Bisogno di persone Voi Abbiamo qualche altra Cosa stupida Sì Qui sopra Ti prego Ti prego Ti prego Dammi un ultimo punto Un ultimissimo Punto Questo segnamento Sta andando proprio Di merda Cioè in realtà Sta andando anche bene Solo che ci mancano Le risorse Cioè non abbiamo I campi agricoli Ora dico vabbè Buttiamoci sulle risorse Risorse Trovo pietra Rame Stagno Tutte queste cazzate Che non mi servono Ne merito Cazzo Oggettivamente Che sono più Un ostacolo Che altro Essere sinceri Ok La fonderia Me l'hai costruita Bravo ragazzo A pensarci Forse forse Ci conveniva Recutarci Di questi due Con cosa Non lo so Quindi Li rispediamo indietro Pardon Qui Stanno lavorando Sì Are di sì Vabbè Qui qualcuno Potrebbe abbattere Qualche albero qua Però la maggior parte Si concentrano lì E va bene così Qui Cimitero Ci stiamo Abbiamo finito Di lavorarci Ma perché ce n'è uno solo Lavorate Ce n'è in due Porca puttana Le guadagnate Molto di più Ve lo assicuro Signori miei Qui l'abbiamo ricostruito Sì che l'abbiamo ricostruito Fantastico Ok Vai così Serve un altro bel carico di gente Ok Abbiamo Quattro uova Tutte belle preponderanti Ma ne abbiamo Qualche carichino piccolo Sì Eccolo qua Se almeno ci togiamo Tutti davanti al cazzo Questi cose qui 0,75 Ma mi chiedi cose Che io non ti posso dare L'oro Va bene così Te lo posso dare Te lo posso fornire Sempre se No è inutile Usiamo l'oro Così lo spendiamo Qua abbiamo 40 pergamene Ne avevo proprio Assolutamente la necessità Non abbiamo Cazzo di legna Di pietra Porca puttana Ma perché abbiamo sempre Scarsità delle cose basiche Che cazzo ci fate Con la pietra Quanti mattoni State costruendo State costruendo Una muraglia Da soli Non ho capito Eh Manca così poco Allo stesso tempo Così tanto Ma qualcuno Si è liberato In tutta sta zona Di merda Dai un punto E qui Ne guadagniamo 0,75 Dovremmo Concludere Questa merda Dovremmo Concludere Questa merda Per pietà Ragazzi Fatemi finire Questa cosa Sono fiaccato Sono proprio fiaccato Ok Gli accampamento Di taglia legna Vabbè Ti metto qua Che cazzo Vi devo dire ragazzi Spostatevi tutti qui Fatevi i cazzi vostri A questo punto No ma Ma giusto per Qui mi smonti In attimo Gli amico Fritz Perché stiamo Producendo Così tanta pietra Che non riusciamo A tenerne un po' Da parte Per noi Sai com'è Non è il massimo Qui Me ne metti due E me lo scassini Così almeno Abbiamo La nostra parte Di Pergamene Qui mi prendi In altro carico Più o meno Appacato Evitiamo Come sempre Di esagerare Ok Qui ci abitano Lucertole Miste Ci abitano Un bocco Di lucertole Mi sa Tanto che dovremmo Costruire Tutto un altro Quartiere Per lucertole Ok Ok Fantastico Questo così E questo così Dai All'opera Su ragazzi Copriamo la più vasta Aria possibile Di persone Ok Qui ci stanno Lavorando Qui Quando riescono A ottenere un po' Di pietra Ci lavorano anche Il resto delle persone Piangono Fondamentalmente Ok Qui questi due Ci stanno lavorando Da prima Però non riusciamo A ottenere mai Abbastanza pietra Quanta Quanti ingranaggi Abbiamo Sette Ma allora Un altro cazzo Di deposito Cioè un'altra Miniera Te la costruisco A questo punto E abbiamo poche risorse Questa sembra Tipo una miniera A cielo aperto Noi ci occupiamo Solo esclusivamente Di estrarre Le stesse cose Trite E ritrite All'infinito Ok Quindi produci Uno Due Tre Uno E due Ok Così loro Mi producono Spiedini Quando ci riescono Eh Sì Quando ci riescono Perfetto Mi produci La tintura Tu Le cose Non ci servono Tu mi produci Le pergamene Così almeno Qua Riusciamo a Sincronizzare Un minimo Il tutto No Non ci serve Studio Studio Dello Scriba Manco Per niente Ma ci prendiamo Lo studio Dello Scriba Così almeno Possiamo iniziare Anche a produrre Attrezzi Per quel poco Che di realtà Possiamo fare A essere sinceri Ok Abbiamo un quartiere Industriale Di dimensioni Veramente Epocali Credo Realmente Epocali Non credo Di aver mai Oh Grazie a dio Per un attimo Mi sono spaventato Ho detto No dai Abbiamo fallito Sì Ricchi Sfondati Commercia Beni Per i valori 3.000 Di ambra Ci credo Ci credo Signori Una vera sfida Vince una partita Difficoltà Veterano Superiore Cazzo 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 Torniamo Sicuramente Alla mappa Del mondo Veramente Un trauma Veramente Un trauma Sì che è stata Una vera sfida Lo è stato A due mani Assolutamente E vaffanculo Figurati ora che andremo Nella foresta sigillata Grazie a dio Che lì non è bisogno Che arriviamo al massimo Dei nostri punti Però qui veramente Io lo credevo Persa Cioè ci siamo riusciti Oggettivamente Per gran bella Botta di culo Ma Innegabilmente Signori Direi Che ora Ci prendiamo Le nostre belle Ricompense E ora come ora Sono costretto a lamentarvi Che il tempo è tirano E ci becchiamo Nel prossimo episodio